Vincenzo un viaggio estenuante, snervante, ma alla fine medaglia al collo, nuovamente campioni del mondo. Senza esagerare direi una vera e propria odissea, grandissima soddisfazione, sai, gli ultimi due mondiali essersi confermati campioni del mondo non è sempre facile, anche perché non sai che variazioni apportano alle formazioni le altre squadre, ad esempio quando abbiamo vinto a Montecatini c'era un'Ucraina, ex campione del mondo dopo e non si è presentata, quindi c'erano delle squadre, da noi poi avevamo Spagna, Peru e Grecia, avevo notizie che la Grecia veniva particolarmente agguerita, però c'è da dire che dopo il viaggio che avevamo fatto i ragazzi che hanno reperito maglie e scarpe, perché cinque valigie non sono arrivate, qui devo dire grazie a Ponzoni e alle altre Italie che hanno fatto tipo una catena di solidarietà, ci hanno imprestato tutto quello che ci potevano prestare, una grande collaborazione c'è stata, mi è piaciuto moltissimo, quindi sono arrivati a questa partita, la passa militare a satanati, la Grecia non ci ha capito niente, pur essendo molto quotata, il pergo addirittura l'abbiamo lasciato a 30, è fondamentale il gruppo in queste manifestazioni, gli inserimenti di 3-4 giocatori nuovi, tipo Dimitri Loewers, sai che ha giocato in Serie A qui, Niego's Business che ha fatto fino a poco, un mese fa, gli spareggi per andare in A2, poi Tornato Zudetis, tante conferme, è una bella squadra.